Buongiorno Daedo, sto cercando, come vedete, di nascondere sempre di più il microfono, va sempre più giù, fra un po' non lo vedrete più, state guardando in video questo podcastone, state semplicemente sentendo l'audio e non ve ne frega una mazza, però è per voi che lo faccio, perché per avere una buona qualità audio al podcast il microfono deve essere posizionato correttamente, insomma, e quindi sto facendo delle prove, no? Faccio una prova di registrazione anche di questo episodio con il microfono in questa posizione, così poi quando vado in editing vedo com'è, il bravo professionista cosa dovrebbe fare? Dovrebbe registrare un pezzetto parlando così, poi andare in editing, vedere com'è l'audio, poi tornare di qua, ma siccome io sono pigro, vado direttamente a provare con la puntata reale, poi vediamo come viene, datemi dei feedback se la qualità audio di questo episodio è brutta, però, insomma, spero di no, spero di no perché oggi puntata frizzantina, perché parliamo di intelligenza artificiale, di torniamo a parlare di intelligenza artificiale, è un po' che non toccavamo questo argamento, no? Però nelle ultime settimane sono successe cose divertenti tra Sam Altman, Elon Musk, insomma, riguardano OpenAI, quindi non parliamo di codice, non parliamo di tecnologie, parliamo di politica fondamentalmente, ma, insomma, anche degli aggiornamenti sulle vecchie questioni di OpenAI, per capire un pochino cosa si sta muovendo, secondo me è bene farlo, anche per capire un po' il mercato, no? Bisogna capire il mercato per essere efficaci. Basta, questa era la mia introduzione, bella strong, bella forte, ma, siccome ho poco tempo, vado diretto, come un treno, alle news di oggi, in cui parliamo di OpenAI. Allora, eccoci qua, la prima notizia interessante è questa, che Sam Altman ritorna in OpenAI. Non è vero, Sam Altman era già ritornato in OpenAI, se vi ricordate, lo scorso novembre, il bordello da cui OpenAI, insomma, era stata coinvolta, Sam Altman era stato cacciato e poi riportato dentro, dopo un'insurrezione popolare dei dipendenti di OpenAI, insomma, era stato riportato dentro come CEO, però era stato comunque espulso dal Consiglio di Amministrazione, ora invece è tornato. Ma, invece di farvi io un riassunto stupido, vado a leggere un articolo del Post, che sicuramente ce ne parla con più cognizione di causa. Allora, venerdì, venerdì scorso, OpenAI, l'azienda che gestisce il sistema di intelligenza artificiale CGT, naturalmente, ha annunciato che l'amministratore delegato Sam Altman potrà tornare ufficialmente a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'azienda assieme a tre nuovi amministratori. A fine novembre, vabbè, lo sapete, il Consiglio aveva licenziato Altman senza preavviso, con poche spiegazioni, eccetera. C'era stata questa insurrezione, la lettera aperta dei dipendenti che minacciavano di mettersi in massa, dopodiché Altman era stato riportato, dopo pochi giorni, e aveva anche OpenAI rimosso quasi tutto il Consiglio di Amministrazione che lo aveva cacciato. Però, fino adesso, appunto, Altman era rimasto fuori dal Consiglio di Amministrazione mentre c'era un'indagine interna per capire cosa stava succedendo. Infatti, la decisione di licenziarlo era stata motivata proprio dal Consiglio, citando una sua presunta scarsa trasparenza nelle comunicazioni, nelle decisioni, insomma, e il Consiglio non poteva controllare adeguatamente cosa succedeva nell'azienda, e quindi bla bla bla. Insomma, l'indagine si è conclusa e ha stabilito che, in quel tempo, la condotta di Altman non richiedeva la sua rimozione e che, quindi, lui sia la persona giusta per guidare l'azienda. Secondo alcune fonti citate da diversi giornali statunitensi, il licenziamento di Altman, in quel momento, avrebbe avuto a che fare con divergenze fra il Consiglio e Altman stesso sulla velocità con cui sviluppare, diffondere e commercializzare i sistemi di IA. Il Consiglio avrebbe avuto una posizione più cauta, mentre Altman sembrava interessata a sfruttare il più possibile la grande visibilità di OpenIA e CRGBT per attirare, insomma, nuovi investimenti ad espandersi. Cosa vuol dire di tutto questo? Che non sappiamo niente. Come al solito, non c'è nulla di concreto, le comunicazioni sono, insomma, fumose, non sappiamo il motivo vero per cui Altman fu cacciato in quel momento, come non sappiamo, il motivo vero per cui viene rimesso al suo posto oggi. Quest'indagine non ha portato a nulla di chiaro, quantomeno pubblicamente, ecco, è più corretto dire così, non ha pubblicato nulla di chiaro. Vado anche su The Verge per vedere qualche dettaglio in più, sempre su questa vicenda di Altman riportato a bordo. Allora, l'ha comunicato, in una comunicato stampa, il Presidente del Consiglio, che è Brett Taylor, che ha detto che la società di investigazioni, Wilmer Hale, ha condotto interviste con membri del board, con dipendenti e ha revisionato più di 30.000 documenti, alla fine ha concluso che Sam Altman e il co-founder di OpenAI, Greg Brockman, sono i leader giusti per OpenAI. Questa è stata la conclusione, dopo aver condotto questa indagine terribile interna, alla fine qual è la conclusione di tutto? Beh, sì, Sam Altman e Greg Brockman sono le persone giuste. Questa è la conclusione dell'investigazione. Va bene? Allora, oltre a Altman, ecco, qui c'è un dettaglio in più sul nuovo board, Taylor Hanke ha annunciato tre nuovi membri. Chi sono questi tre nuovi membri? Sono Sue Desmond Hellman, che è ex CEO della fondazione Bill & Melinda Gates, sapete, la fondazione che Bill Gates e Melinda Gates avevano fondato, fondazione non-profit. poi Nicole Seligman, che è ex executive legal di Sony e poi Fiji Simo, che è CEO di Instacart, ok? Quindi questi andranno a unirsi ai membri dei consigli già presenti, che sono appunto Brad Taylor, Sam Altman e poi il CEO di Quora Adam Angelo e Larry Summers. Questo sarà, ecco, questa è la composizione del nuovo board. E naturalmente ci dice anche The Verge che l'investigazione non porta nessun dettaglio in più su quello che già sapevamo, ecco, non ci dà nessuna delucidazione e c'è praticamente nelle conclusioni che hanno diffuso pubblicamente si usa un linguaggio vago per giustificare il licenziamento di Sam Altman all'epoca e anche il suo rientro in consiglio. Quindi non sappiamo niente. Però insomma, vi ricorderete un po' di quella vicenda, no? Ne avevamo parlato. Se riesco metto il link magari qua, da qualche parte, sul video di YouTube. Se guardate YouTube, se no, insomma, cercate OpenAI nelle miei episodi del podcast di quei giorni lì, più o meno ne avevamo parlato. Vi ricorderete che c'era, insomma, questo consiglio di amministrazione che aveva appunto deciso di licenziare Altman e era guidato, insomma, sembrava guidato in questa decisione da uno dei fondatori che era Ilya Suskever che è un tecnico, quello che davvero probabilmente ha creato le basi per tutti i modelli di OpenAI, praticamente un vero genio dell'intelligenza artificiale moderna. Ma tutta quella questione poi aveva anche toccato questioni filosofiche, no? Vi ricordate l'altruismo efficace? Probabilmente quella era stata identificata come una delle basi su cui poggiava appunto la disputa tra il consiglio e Semaltman, in particolare perché appunto Ilya Suskever è un membro di questo movimento filosofico altruismo efficace, mentre Semaltman no e questo ha portato uno scontro di visioni. E se volete un po' capire meglio che cos'è altruismo efficace non vi resta che andare sul sito effectivealtruism.org cioè un pratico sito dove potete vedere che cos'è l'altruismo efficace questa corrente filosofica che tra l'altro postula che dovremmo stare attenti e combattere contro l'intelligenza artificiale che potrebbe portare ecco danni all'umanità. Ma se voi vedete sul sito tra l'altro è ovviamente un po' fumoso cioè a dir poco cioè non è che sia davvero un qualcosa di pratico l'altruismo efficace non sono una serie di principi un po' vaghi se volete ve lo leggo c'è un pratico paragrafo che dice cos'è l'altruismo efficace dice tutti vogliamo fare il bene ma molti modi di fare il bene sono inefficaci non ce l'avete mai pensato? alcuni modi di fare bene sono inefficaci voi pensavate magari di fare del bene ma questa vostra azione non è efficace perché? anzi vabbè perché non ce lo dice ma ci dice come potremmo migliorare quindi la comunità dell'altruismo efficace prova a trovare dei modi per fare del bene davvero cioè dei modi per fare del bene che funzionano davvero e quindi ci sono alcune idee sono questi punti fondamentali del programma ecco quindi ve li leggo è critico fare attenzione a come le persone sono ecco influenzate da certi interventi e quindi quando lo facciamo quando stiamo attenti a come le persone sono affette dai nostri interventi la nostra capacità di fare del bene incrementa di 100 volte c'è anche una formula matematica se state attenti più c'è per cento all'efficacia del vostro altruismo poi dobbiamo concentrarci sui problemi che sono importanti cosa insomma un punto fondamentale dobbiamo concentrarci sui problemi che sono importanti quali sono i problemi importanti poi naturalmente sta ad altruismo efficace dircelo poi noi possiamo fare un sacco di bene con le nostre carriere quindi possiamo fare bene con le nostre carriere poi se volete potete anche approfondire sono i link io non ho voglia di cliccare sui link che approfondiscono questi punti ma se volete potete andare ad approfondire le nuove questo poi è un punto che potrebbe aver creato dello scompiglio in OpenAI le nuove tecnologie possono minacciare di rimuovere la vita dalla terra e ridurne il rischio è una priorità questo naturalmente si riferisce perfettamente al caso dell'AGI dell'intelligenza generale artificiale anzi dell'intelligenza dell'intelligenza artificiale generale questa entità che prenderà il controllo e ucciderà tutti dopo di che l'ultimo punto è alcuni esseri senzienti sono ignorati perché non ci assomigliano o sono lontani se cliccate io ho purtroppo cliccato sul link e la foto sono delle galline in un allevamento intensivo quindi sono esseri a cui dobbiamo prestare attenzione questo è l'altruismo efficace così come descritto dal sito naturalmente poi questo si basa su alcuni libri scritti negli anni 60 70 80 che cos'è l'altruismo efficace ma in pratica è un gruppo di ricconi che hanno deciso che è meglio accumulare un sacco di soldi un sacco di ricchezze e poi donare parte una piccola parte di quelle ricchezze ad associazioni non profit che poi interverranno sui punti diciamo più affini alla filosofia del movimento naturalmente donazioni che poi possono intervenire sulle tasse magari meglio ancora ecco è meglio privarsi di quantità di soldi e donarli alle associazioni piuttosto che fare del bene ogni giorno fare delle piccole azioni positive ogni giorno per esempio è meglio prendere un botto di soldi e donarli a associazioni non profit che ripuliscono gli oceani piuttosto che fare la raccolta differenziata tutti i giorni quindi meglio essere ricchi e puntare ad arricchirsi per poi agire con le donazioni sul mondo quindi riversando un sacco di soldi sul mondo piuttosto che avere comportamenti retti ed efficaci e ogni giorno aiutare le persone nel piccolo non pensare ricordate quella pensare globale agire locale come era quella filosofia no invece accumulare soldi donarne una parte questa è più o meno adesso sto semplificando però gran parte delle critiche all'altruismo efficace sono effettivamente queste e insomma vedendo qual è il pool di membri di questo movimento più o meno penso che non siamo molto distanti dalla verità questo era solo per dare un po' di contesto anche sul problema che ha portato poi al licenziamento di Samarkand da OpenAI centrava l'altruismo efficace quindi mi è così venuto in mente di riportarvi un po' di dettagli ulteriori ma non è finita qua perché ultimamente OpenAI è al centro anche di problemi di dibattiti con Elon Musk il signor Elon Musk ma sono sempre più divertenti questi dibattiti ma non so se definiti divertenti o comunque Ilari ecco Ilari e fortunatamente D-Day ci ha scritto un bel articolo che riassume il nostro Sergio Donato che ringrazio tutte le volte che riassume un po' il cosa sta succedendo tra Elon Musk e OpenAI perché Elon Musk ha scritto delle lettere anzi Elon Musk ha proprio fatto causa mi sembra a OpenAI per cose strane ma vi vado a leggere allora alla fine della scorsa settimana Elon Musk ha intentato causa ecco mi ricordavo mi ricordavo bene contro OpenAI e l'amministratore delegato Sim Altman e il CEO Sim Altman sostenendo che OpenAI ha violato i suoi principi fondanti dando priorità al profitto rispetto al beneficio dell'umanità ricordo che viene da Elon Musk questa causa quindi dando priorità al profitto rispetto al beneficio dell'umanità indovinate di quale movimento fa parte Elon Musk bravi di altruismo efficace oddio fa parte si pensa che anche lui aderisca adesso non è che c'è un elenco dei soci però ecco mi pare di aver capito che si pensa che lui ne faccia parte allora la risposta di OpenAI è arrivata quattro giorni dopo con un post sul suo blog in cui ha pubblicato alcune email di Musk risalente ai primi giorni dell'azienda in queste lettere Musk sembrava riconoscere la necessità da parte di OpenAI di trovare fonti di reddito alternative oltre alla raccolta di denaro per finanziare tutte le incredibili risorse di calcolo che erano ovviamente necessarie per alimentare il suo business nel campo dell'IA e inoltre ha proposto diffondersi con Tesla cosa che naturalmente non è successa vi ricordo e vi ricordo anche l'articolo che Musk è stato uno dei fondatori di OpenAI nel 2015 insieme a Sam Altman e poi però nel 2018 Elon Musk ha lasciato OpenAI Sam Altman l'ha trasformata in una società commerciale controllata dall'organizzazione non profit che è guidata dal consiglio di amministrazione se vi ricordate quando ne avevamo parlato abbiamo fatto anche abbiamo visto lo schemino abbastanza complesso di come OpenAI è governata nelle carte della citazione Musk afferma che OpenAI è diventata di fatto una filiale closed source di Microsoft infatti infatti sappiamo che OpenAI è quello che dà potere a tutta la suite di copilot di Microsoft va bene secondo Musk le scelte di OpenAI hanno spostato gli intenti della società sul guadagno piuttosto che sul bene dell'umanità e questa roba comporterebbe una violazione del contratto tuttavia sebbene la citazione in giudizio di Musk menzioni un accordo di fondazione né la parte della citazione in giudizio né il successivo post di OpenAI in risposta a Musk ne hanno pubblicato uno in pratica questo contratto non esiste non c'è in passato Elon Musk ha espresso più volte le sue preoccupazioni sulla pericolosità delle nuove IA e sulla possibilità che possano distruggere l'umanità ricordo sempre altruismo efficace ciò non ha impedito a Musk di entrare anch'esso nel campo dell'IA generativa fondando la società XAI ve l'eravate scordata XAI vero? ebbene esiste Musk ha fondato un'azienda che si chiama XAI da cui è nato il chatbot GROK vi ricordate il chatbot GROK ora ve lo ricordo GROK sembra il nome di uno snack al parmigiano reggiano GROK va bene la replica di OpenAI ha questa citazione in giudizio avvenuta attraverso un post sul suo blog insomma pubblico e si riferisce e riporta alcuni scambi di email tra Musk e gli altri founder tra il 2015 e il 2018 qui Musk sostiene che OpenAI non aveva praticamente alcuna possibilità di costruire una piattaforma IA generativa di successo soltanto raccogliendo denaro e quindi avrebbe dovuto trovare fondi di reddito alternative quindi dice che OpenAI avrebbe dovuto raccogliere molto più di 100 milioni di dollari ha ipotizzato un finanziamento di un miliardo di dollari e ha promesso che avrebbe coperto tutto ciò che non sarebbe stato raccolto OpenAI ha detto che Musk non ha mai onorato quella promessa ha messo sulla società 45 milioni di dollari mentre 90 milioni sono arrivati da altri fondatori poi in una mail del febbraio 2018 Musk ha detto che l'unica strada percorribile sarebbe stata l'acquisto della società da parte di Tesla OpenAI non ha accettato la proposta e nel 2018 Musk ha anche lasciato OpenAI inoltre in conclusione la società ricorda Elon Musk che la parola Open nel nome OpenAI non implica l'open sourcing dell'AGI o dell'AI in generale ma che tutti dovrebbero beneficiare dei frutti dell'AI dopo la sua realizzazione senza comunque condividerne la scienza che è una cosa cioè fidatevi dovete beneficiarne senza capirla senza leggerla fidatevi funziona l'abbiamo scritta noi funziona in una mail a questa affermazione fatta da uno dei fondatori Ilias Uzgever appunto nel 2016 Musk aveva risposto sì quindi ha detto era d'accordo con questa strana affermazione io vorrei leggere ancora di più ma penso che il tempo sia abbastanza esaurito c'è un articolo sul Guardian che racconta le origini di questa battaglia di questo scontro tra Musk e Altman ha parlato di come in realtà Altman fosse affascinato da Musk i due si erano incontrati nei primi anni del 2010 Altman aveva fatto un tour di SpaceX era rimasto affascinato da Musk Musk a sua volta insomma aveva piuttosto in simpatia Sam Altman che era già a quel tempo abbastanza quotato nella Silicon Valley era in Y Combinator insomma i due si erano piaciuti avevano iniziato a scriversi email parlando di intelligenza artificiale la cosa curiosa è che avevano iniziato a pensare come l'AGI appunto o l'IA potente potesse essere in qualche modo dannosa per l'umanità e quindi avevano detto beh se qualcuno deve creare un'IA e controllare un potere così grande che potrebbe distruggere il mondo beh è meglio che siamo noi siamo io e te a controllare questa roba non gente come Google che all'epoca aveva acquisito DeepMind e stava appunto creando i A potenti insomma è bene che non sia Google a contenere a possedere questo potere è bene che siamo io e te questo questo è un po' il succo delle loro conversazioni c'è un un post su The Verge che comunque vi consiglio di leggere si intitola ve lo leggo in inglese il titolo così lo trovate Elon Musk's legal case against OpenAI is hilariously bad penso che si capisca abbastanza bene insomma è abbastanza spiega abbastanza bene com'è ridicola questa causa messa in piedi dai legali di Musk perché appunto fa riferimento a un contratto che non esiste a parte che inizia dicendo che il fatto che Elon Musk faccia causa un'azienda perché cerca il profitto è abbastanza buffo che venga da Elon Musk e poi parla appunto del fatto che il primo punto di questa causa legale di 46 pagine che potete trovare interamente in questo post parla appunto di violazione di un contratto e dice l'articolo qualunque studente nel primo anno di legge potrebbe intanto iniziare a chiedere ok allora dov'è questo contratto e cosa dice questo contratto per essere un contratto valido deve esserci un'offerta l'accettazione di questa offerta e uno scambio di valore tra due parti ebbene questo ah e soprattutto questo contratto deve essere scritto no non può essere una cosa scambiata a voce perché far riconoscere a un giudice che esiste un contratto scambiato a voce è praticamente impossibile comunque è molto difficile quindi deve esserci scritto allora e questa roba non c'è non esiste non c'è nessun contratto i legali di Musk parlano di un founding agreement ma usano anche questa parola il founding agreement è memorialized che come traduciamo con memorializzato ecco non è una parola strana solo in italiano è strana anche in inglese e infatti dice l'articolo i legali usano la parola memorialized invece di scritto perché appunto sono legali sono pagati per inventare formule strane ecco questo è memorializzato e poi naturalmente parla di questo article of incorporation che non è un contratto perché parla dell'obiettivo degli obiettivi di OpenAI come corporation ma non è un contratto e non parla di un contratto tra OpenAI e Musk quindi insomma Musk sta facendo causa a un contratto che non esiste e questo è abbastanza è abbastanza ironico e tra l'altro Musk che ultimamente ce l'ha su proprio tantissimo tantissimo con Sam Altman e OpenAI usa come un bambino vi ricordate come Trump usava Twitter come i bambini ecco Musk sta se ogni tanto andate su Twitter io purtroppo ogni tanto lo faccio non so perché ho questa sindrome di Stoccolma ogni tanto vado ad aprire Twitter e insomma Elon Musk ha scritto questo blog post se state vedendo il mio video ecco vedete cosa ha pubblicato Musk su Twitter questa immagine si è scritto OpenAI ma le lettere di OpenAI sono formate dalla parola lie quindi bugia scritto un bambino un bambino vi lascio due link al volo il primo ladybird.dev che cos'è Ladybird è il progetto Ladybird Browser è un browser scritto da zero che fa parte del progetto Serenity OS sapete naturalmente vero che cos'è Serenity OS insomma se non lo sapete sapevatelo è un sistema operativo Unix-like totalmente creato da zero kernel suite di programmi API POSIX-like insomma è un progetto di un folle Andrea Skling che ha scritto e che sta scrivendo questo sistema operativo ha trovato un sacco di supporto da molti sviluppatori non è solo una cosa didattica perché comunque scrivere un sistema operativo imparare come scrivere un sistema operativo o anche come contribuire è molto didattico naturalmente però si è trasformato anche in qualcosa di più è proprio un progetto che è cresciuto vabbè andatevi a vedere Serenity OS ma poi da Serenity OS sono state create varie cose perché invece di utilizzare software già esistenti in molti casi il team di Serenity ha pensato di scrivere software nuovi questo naturalmente potrebbe anche portare alla scoperta di paradigmi nuovi o comunque di nuove tecniche per creare i software e in questo caso c'è un nuovo browser Ladybird browser e anche qui si ha il render che per esempio il motore JavaScript è tutto creato from scratch proprio in Serenity OS quindi è un progetto assolutamente da seguire anche per capire appunto come potremmo da oggi con tutta l'esperienza che abbiamo creare dei nuovi software come appunto dei nuovi browser magari ecco evitando gli errori del passato non so questo è il Ladybird browser project lo trovate su ladybird.dev l'ultimo link è una cosa così simpatica è un post che si intitola A Farewell Letter to Password quindi una lettera di addio alle password è un blog post che ho trovato sul blog di OutZero che naturalmente è un servizio che gestisce l'autenticazione insomma come potete pensare è una lettera abbastanza simpatica scritta da un developer advocate di OutZero che dà l'addio alle password perché naturalmente ora entriamo nell'epoca del passwordless ci sono delle tecniche che consentono di non utilizzare le password anzi è quello su cui tutti dovremo muoverci soprattutto sul web e sul cloud e quindi qua anche OutZero sposa questo movimento e il suo developer advocate scrive una lettera di addio alle password simpatica vabbè ve lo lascio giusto se volete leggere è cortissima in 10 secondi la leggete giusto così per farvi due risate ebbene sul blog di OutZero vi lascio naturalmente questi link nella descrizione del podcastone di questo episodio ho finito qui grazie per avermi seguito anche oggi tra l'altro proprio oggi fra qualche ora farò la live di pranzo parleremo di un po' di cose insomma se vi va ci sentiamo lì se no ecco appuntamento prossimamente ah ma non domani e neanche dopo domani insomma nei prossimi due giorni sarò impegnato e se volete tra l'altro dovrei essere dovrei bazzicare al Savoia Hotel di Bologna perché ci sono eventi di Gruspe c'è DX Day domani e ID in incontro DevOps venerdì e io sarò lì quindi se ci vediamo come al solito un bel brindisino non ce lo nega nessuno insomma abbraccioni sudati e brindisi a birra ciao